Musica Amici di Classic Garage, benvenuti! Siamo all'All Cars di Roma, ormai se ci seguite lo sapete, è un garage straordinario costruito grazie alla passione di alcuni soci che poi conosceremo nel corso delle nostre puntate. Ci sono degli automobili straordinari e ci sono degli ospiti che ci hanno raggiunti per raccontare anche il mondo dell'auto classica ed epoca attraverso le loro splendide automobili e anche le loro esperienze personali di diretti. Vi presento come consuetudine subito le automobili protagoniste di questa puntata, cominciamo alle mie spalle, la vedete troneggia, veramente un'automobile importante per dimensioni e per storia, la Bentley MK6 del 1949. Poi abbiamo qui davanti una splendida Mercedes 190 SL del 1961, una delle automobili cabriolet sicuramente più belle, più desiderate dell'intera produzione mondiale e poi di fronte a lei un'automobile altrettanto importante per la sua storia, una Fiat 509A, siamo nel 1928, una versione veramente particolare, pensate rivestita in pelle, una creazione di un carrozziere importante ma ovviamente poi abbiamo qui proprio uno di quelli che ha partecipato a restare un appassionato di vetture di questi anni che ci racconterà meglio nel dettaglio la storia e quello che è stato fatto a questa importante Fiat. Naturalmente adesso vi presento gli ospiti, intanto i padroni di casa all'estrema sinistra, la mia estrema sinistra, l'avete riconosciuto, l'avvocato perché oggi ci servirà anche proprio la sua perizia come legale, Giuseppe Guancioli che è anche uno degli animatori dell'All Cars di Roma, benvenuto Giuseppe, anzi noi siamo a casa tua quindi siamo noi in qualche modo benvenuti, intanto un saluto. Grazie, grazie a tutti. E poi proseguendo da sinistra verso il centro abbiamo Claudio Carafelli, che è partecipato al restauro importante di questa Fiat 509 che poi ci racconterai più nel dettaglio. Qui verso di me abbiamo Stefano Marazzotti, benvenuto Stefano, Stefano è un tappeziere, insomma un restauratore di interni, una figura importante per tutti quelli che conoscono le auto d'epoca e si appassionano a questo mondo perché insomma sapete bene che l'interno di un'automobile è un argomento veramente di grande grande importanza, non è facile trovare dei tappezzieri con cui instaurare anche un buon rapporto personale per capire proprio bene quello che c'è da fare all'interno di una vettura. Proseguo qui alla mia destra, Giuliano Mazzolini ci ha portato questa splendida 190 SL, benvenuto naturalmente a Giuliano di cui parleremo nel corso della puntata e a destra altro volto noto, padrone di casa anche lui dell'Hall Cars, l'anima di questo club, l'avete riconosciuto, un personaggio come dire, ti vuoi presentare da solo? Sì, io sono Sandro Cugini, sono il socio dell'Hall Cars e benvenuti in questa trasmissione. Grande appassionato di autotepoca dobbiamo dirlo e di oggetti. E di oggetti, sei il realizzatore, sei il costruttore, sei l'artefice fisico ma quasi materiale. Questo posto che adesso voi nelle nostre puntate conoscete soltanto alcuni aspetti, ma veramente merita una visita perché ci sono degli oggetti straordinari che fanno parte davvero della storia dell'automobile, della storia dell'industria, dell'umanità direi. Giuseppe da che cosa cominciamo? Ti chiedo aiuto perché abbiamo due automobili, tre in realtà, perché poi parliamo anche della Bentley. Ma che dire, io ogni volta che mi trovo in mezzo alle auto sento proprio la passione che mi risboccia. Questa l'abbiamo inseguita, questa Bentley che correva, andava via via. L'abbiamo inseguita col desiderio perché solo il colore è affascinante. Una macchina questa in pratica non è restaurata così come era all'origine, è una macchina che appena entri ti senti lord appena ti siedi, a parte quella strana sensazione che provi portando la guida a destra. Questo cambio che invece rimane... Che per qualcuno però è molto british, cioè proprio l'auto inglese bisognerebbe guidarla con la guida a destra. Ti senti lord e poi vai a cercare magari il cambio di qua, sta stretto tra lo sportello, cambi con difficoltà. Ma è comunque una cosa sicuramente emozionante appena apri lo sportello. Come l'avete trovata? Intanto possiamo dire che è un esemplare di proprietà del club, quindi vostra. Questa è proprietà del club, era un nostro amico che a un certo punto ha deciso di metterla in vendita e non ci siamo fatti sfuggire l'opportunità di mandarla in mano di terzi, quindi è rimasta... Vogliamo ricordare è Bentley MK6 1949, la prima vettura dopo la guerra costruita dalla Bentley che, lo ricordiamo, era già stata nel 1931 acquistata da Rolls Royce e questa però è stata la prima vettura costruita proprio dopo l'alleanza, anzi l'acquisizione per meglio dire da parte di Rolls Royce, quindi esisteva anche una versione poi Rolls Royce. Una vettura importante, motore 6 cilindri, oltre 4 litri di cilindrata, una vettura capace già allora di fare i 160 all'ora. Sì, che si guida con grande facilità peraltro, ha superato il primo momento di impatto un po' che ti... È la mole, la mole della macchina che è un po' troppo... Però ecco, si guida alla fine con semplicità, fatta l'abitudine a questo cambio a tre marce, si fa... Fino al 36 Carlo l'hanno fatta, era un 3.600 e poi l'hanno portata a 4.2 dopo il 36 perché sicuramente è una macchina abbastanza pesante, aveva bisogno di più cavalli, di più spinta perché... Però è veramente come dice prima, è una macchina che si porta bene e ti fa sentire un po' inglese. Io l'inglese l'ho imparato con questa macchina. Senti, ma ci sono quei due specchiettini laterali e insomma io ho provato a usarli, a fare una manovra, insomma veramente si ha appena la percezione degli ingombri laterali. Dietro il 1.8 è così, solo di bellezza. Si vede quasi niente. Cioè nelle manovre di oggi, nel traffico di oggi è molto difficile. Devi avere come gli aeroplani, qualcuno con le palette che ti guida perché sicuramente gli ingombri, tenuto conto della visibilità dall'interno... Molto ridotta. Sì, è ridotta, sì. Devi stare molto attento nelle manovre, altrimenti i parafanghi si... No, ma la particolarità è il cambio, il cambio è veramente particolare perché poi è piccolino. Infatti la prima volta che sono entrato pensavo che era fine a mano, invece era il cambio. Poi sul volante ci sono tutta una serie di comandi che sono tipici dell'architettura di quegli automobili. dell'aria... Cosa si regola dal volante? Eh si regola l'aria, c'è l'anticipo della macchina e vabbè poi c'è il clacson. Quello siamo abituati anche sull'auto moderna, però ci sono dei comandi che invece non fanno parte della costituzione di oggi, che invece ritroviamo intorno al volante. Vabbè fino a quell'epoca, agli anni 40 erano così sul volante. Quindi l'aria, l'anticipo. L'anticipo, così per farla partire. Sì che c'è tutto a portata di mano, chiaramente, certo. Comunque per l'epoca era una bella strumentazione, aveva tanta strumentazione, specialmente questa macchina qua. Ecco, e poi approfittiamo della presenza di Stefano, tappeziere. La vettura è in splendide condizioni, non so se è stata rifatta, però sicuramente Bentley vuol dire lusso, vuol dire eccellenza. Si tratta di pellami di qualità eccezionale. Pensate a una vettura del 49, la pelle è in condizioni veramente eccellente. Che cosa usavano i materiali, i pelle conno, i materiali di grande qualità? Ricordiamo che erano delle vetture più prestigiose, forse. Grande qualità, ma bisogna dare, dire che è bravo stato il proprietario per attenerla in questa manutenzione. Ha avuto una grande manutenzione. Ecco, vogliamo raccontare, come si fa a mantenere una vettura con gli interni in pelle in queste condizioni dopo più di 60 anni? Beh, sì, bisogna dire a tutti i possessori di auto con gli interni in pelle che bisognerebbe curarla un po' di più l'interno in pelle. Perché spesso l'interno in pelle viene trascurato. Viene trascurato perché diceva bene tanto l'interno in pelle. Non si rovina. Sì, non si rovina. Quello che non si rovina è lo sky. La pelle invece va mantenuta, va trattata. Va trattata proprio come la carrozzeria. Quindi quelle creme quelle creme che ti danno, che magari uno usa con un minimo di preoccupazione, eccetera, invece vanno usate? Quelle creme, sì, vanno usate, però attenzione, perché alcuni danno la crema perché pensano di pulirla. Invece si nutre. Invece la crema serve per tenerla. Si, per mantenerla. La crema serve a mantenere la pelle, la lucidità, il colore e la morbidezza. Prima di tutto, la morbidezza. Ecco perché poi più si dà la crema, più si mantiene morbida e meno screpolature fa. Quindi diciamo che periodicamente bisognerebbe passare della crema. Sì, io dico su una macchina, su una macchina, una vettura circolante, la crema per tenere morbida, il trattamento per tenere morbida la pelle va data ogni due volte l'anno. Almeno due volte. Prima dell'estate e subito dopo l'estate perché la pelle in quel periodo lì viene asciugata dal sole, quindi si secca. Se non viene data questa crema per riportarla alla morbidezza, ridare anche un po' di quella umidità alla pelle, proprio perché la pelle deve... Perché è vera, è viva. Per esempio Sandro, la tua Jaguarè, stavo vedendo prima dell'inizio della trasmissione, i cedili sono un po' secchi, ma tu non la passi la crema? No, io non la passo perché se continuate a farmi lavorare così tanto per fare... Ma l'errore che ha fatto molti è proprio questo. Mi date un po' di tempo, mi curo la mia macchina, la compita. Dovete trovare un po' di tempo per passare la pelle. Io devo dire una cosa, adesso approfitto della presenza... Lavoro fa stamattina ai 4 e mezza, non c'è avuto tempo. Devo approfittare, si lamenta sempre, devo approfittare della presenza di Stefano, visto che, insomma, in tappezzieri abbiamo detto nell'altra puntata, Giuseppe, un po' come il confessore, no? Insomma, come il meccanico, insomma, cerchi di chiedere di consigli. A me hanno dato un consiglio, che io devo dire, con le mie vetture lo utilizzo, me ne vergogno sempre un po' perché mi sembra una cosa inappropriata, però io passo la Nivea. Me l'ha detto il tuo collega, guarda, non stare a comprare cose particolari, passa la Nivea. Io la rubo a mia moglie, che compra sempre questa Nivea, che non si sa cosa ci fa, infatti gliela prendo io, la nascondo al box e la uso per l'impellame. E se lo confesso pubblicamente. Pensavo fosse una leggenda metropolitana, la sapevo anch'io. Me ne vergogno un po' perché non è professionale usare la Nivea, me ne rendo conto. Qualcuno di voi è capitato alla stessa ignominia? No, l'ho usata anch'io, l'ho usata anch'io. Anche tu, facciamo outing. Perché volete risparmiare? Noi usiamo la Nivea, è una vergogna, ma la dobbiamo dire, insomma. Perché volete risparmiare, questo è il problema. Beh, certo, indubbiamente la Nivea, poi io non la pago perché la compra mia moglie, quindi approfitto in maniera così proprio becera. No, c'è una crema che non posso fare nome per pubblicità. Ma poi possiamo dire, è una crema inglese, americana. È una crema inglese, è una ditta che fornisce quasi tutto l'essenziale per la pulizia dell'esterno, per le cappotte, per il tettino di questa macchina. Per il vinile. Adesso ti racconterai anche il vinile. È che praticamente cura tutto queste parti. La Nivea non va bene? La Nivea la puoi mettere, puoi mettere la Nivea come puoi mettere qualsiasi altra cosa. E poi bisogna vedere nel tempo il risultato. Il risultato ci vuole una crema specifica. Una crema specifica per auto, proprio per pelle d'auto. Perché la pelle assorbe, quindi non deve essere né tanto morbida, ma neanche tanto dura la crema, perché altrimenti la pelle non gliela fa assorbire. Ma se è liquida si asciuga troppo in fretta. Ci sono delle altre accortezze da tappeziere, da appassionato. Cioè magari, abbiamo detto, idratare, curare la pelle dell'interno della vettura. Questo serve per tenere morbida la pelle. Però anche evitare esposizione al sole, evitare troppo freddo. Cioè la pelle è sensibile anche agli sbassi di temperatura. Certo. E possa, io dico che quantomeno se hai una macchina circolante, darla due volte all'anno. Se invece hai una macchina ferma? Una macchina ferma bisogna una volta all'anno già è più sufficiente. A profitto del tappeziere, confessore, ma invece per pulire la pelle? Poi chiederà, chiederà comunque un obbolo. Per pulirla c'è sempre il sapone proprio per sgrassare la pelle. Sì, va sgrassata. Poi va lasciata asciugare. Quindi se lei ha intenzione di passargli la crema, non va data subito la crema dopo la sgrassatura, diciamo dopo che aveva sgrassato, pulito la pelle. Deve asciugare. Deve asciugare, quindi deve dare il tempo alla pelle che si asciuga. Una volta asciugata, può aspettare anche un giorno, perché se la macchina sta in un garage o in un box, può stare tranquillamente... Un giorno o due, che la pelle si è riasciugata, quindi è rimasta un po' umida, allora dopo può dare la crema. La crema. In modo che rimane proprio morbida e dà tempo alla pelle di asciugarsi da sola. Poi con un panno, un cotone, si toglie tutto quello che deve essere tolto, che la pelle non assorbe più. Allora, lasciamo per un attimo la pelle. E sempre in tema di tappezzeria, abbiamo una splendida Fiat 509 del 28, e chiediamo, approfittiamo della presenza di un di quelli che l'hanno riportata in vita. Claudio, qui non c'è pelle, ma c'è tutto un altro problema, ci sono degli interni che sono straordinari. Esatto. Cosa avete fatto? Quest'auto, Calcoli, che è stata recuperata sulle colline toscane da Angelo Federici, che è un cacciatore di auto antiche ed anche uno dei più bravi restauratori italiani. Era in condizioni... Il classico Fienile, no? No, era abbandonata... È una leggenda, quella dei Fienili, diciamola che è una leggenda. No, no, non è una leggenda. Tu hai trovato un'auto nel Fienile? Non è una leggenda. Ma Sandro ha trovato aerei, elico, trova tutto nei Fienili. No, no, nei Fienili, quindi non è una leggenda. Tu hai trovato un'auto nel Fienile? No, lo trovo pure una coppia dentro un Fienile. Ragazzi, è difficilissimo. Torniamo alle auto. Allora... Torniamo alle auto. Dunque, quest'auto è stata ferma mezzo secolo, è stata recuperata in condizioni pietose e quindi è stata riportata poi così come la vedete in questo momento da questo grande restauratore, Angelo Federici, grande motorista. Dobbiamo fargli i complimenti veramente. Sì, sì. È un'auto splendida. Mamma mia. Lui ne ha tante altre di auto. E quindi... Che condizioni era? Disastrose? Disastrose, perché praticamente c'era soltanto lo chassis e le ruote e qualche pezzo del motore. È stata completamente tutta ricostruita fedelmente come l'originale. Questa è un'auto che è quasi 1000 di cilindrata, 4 cilindri in linea. Appena uscita non andava bene questo tipo di auto. Infatti questa è la seconda serie, diciamo. Questa è la... Esatto. Questa è la seconda serie ed è stato istituito il carburatore e l'impianto di lubrificazione. E quindi poi l'auto... Diciamo che è stato un vero successo perché ne hanno vendute 92 mila. Per la fine degli anni 20 era un risultato quasi popolare. Costava 16 mila lire. Calcoli che un operaio della Fiat guadagnava 200 lire al mese. Quindi nella sua vita non avrebbe mai potuto permettersela. Certo che se facciamo un paragone con quello che succedeva al di là dell'Atlantico negli Stati Uniti quando già nei primi anni 20 si costruivano e si vendevano milioni di Ford T ci rendiamo conto di come l'Europa e l'Italia in particolare in quegli anni fosse lontanissima dalla motorizzazione di massa. Cioè Henry Ford con la Ford T veramente ha costruito 20 milioni di esemplari. Pensate negli anni 20 e 30 20 milioni di automobili. E è riuscito con una politica molto aggressiva costi molto contenuti la catena di montaggio la prima vera catena di montaggio a vendere le auto anche a chi? Anche ai suoi operai. Lui gli dava le auto a condizioni eccezionali proprio perché intuiva il grandissimo potenziale di quella che sarebbe stata la motorizzazione. Però su questa macchina Giuseppe c'è una cosa importante a dire che la Fiat in qualche maniera aveva intuito già negli anni 20 che l'automobile sarebbe diventato un oggetto di massa perché inaugurò proprio con la 509 che era un'utilitaria come giustamente diciamo certo un'utilitaria in un momento in cui l'auto costava una follia però aveva intuito questo potenziale e fu la prima automobile italiana venduta a rate quindi con la formula delle famose rate Sava. Esatto. Quindi c'era già un'idea di rendere l'automobile popolare. In quegli anni nacque la Sava proprio per rateizzare le auto e espandere il mercato. Sì. e questa è un'auto che è carrozzata Weyman è un carrozziere francese le numerava le auto perché venivano costruite su richiesta e da questo speciale tessuto che è la vinile qui abbiamo un esperto. Quindi c'è una... ecco attenzione la particolarità di questa particolare serie di 509 è che è rivestita esternamente in vinile. Esatto. Che non è una pelle tradizionale. No, no, no. Se sarebbe stato in pelle sarebbe stato da rifare ogni due anni perché la pelle è viva come diceva Sandro quindi si asciuga si secca invece il vinile è più resistente rimane ben saldo. E viene utilizzato oggi per i tetti? Per l'esterno, sì. quindi anche lasciato alle intemperie tutta quella parte in vinile non succede nulla certo va curato va lavato ogni tanto perché la polvere e l'umidità si deposita sul tetto sulle parti in piano quindi chiaramente poi tende sempre ad avere quell'ombra quella patina grigiastra e allora va tenuta pulita va lavata ma è un prodotto giusto. Invece il materiale della tappezzeria interna è un materiale particolare sembra un salotto sembra un salotto beh vabbè perché è una macchina cioè prima si veniva da quelle strutture da quel anche le rifiniture sono quelle dei salotti buoni sì perché si portava la macchina che ce l'aveva ce l'aveva il riccone quindi gente che se lo poteva permettere facevano una macchina salottiera quindi era portavano il salotto in macchina beh non è come oggi che i materiali degli interni dell'auto sono studiati specificamente per l'utilizzo all'interno dell'automobile quindi sbalzi temperatura sicurezza in caso di incidenti oggi ci sono dei prodotti proprio specifici per auto all'interno proprio anche perché dobbiamo seguire delle normative quindi questi velluti qua per esempio non potrebbero più andare per un fatto anche di incendio di sicurezza di sicurezza pura sicurezza di resistenza abbiamo tolto il crine da dentro la macchina oggi ce l'hanno parecchie solo alcune case costruiscono ancora con i sedili in crine perché è un buon prodotto però non è diciamo proprio a norma sì non va mentre oggi si usa la spugna la gomma tutta roba normativa che si può spengere con una cicca di sicurezza quella si brucia si sicca ecco c'è anche il problema di chi fuma a bordo che può generare incendi insomma anche se gli autobilisti che fumano sono sempre meno sono diminuiti tu hai vetture degli anni 30 degli anni 20 e 30 quindi comunque sei avvezzo a utilizzarle anche se sporadicamente sono difficili da guidare? no assolutamente no anzi io sono rimasto perché sono se penso che sono vetture che ci hanno 80 anni 100 anni e si portano bene sono belle vetture insomma si guida abbastanza bene basta ecco conoscerle un pochetto le prime volte c'è quel fulgocino balilla che abbiamo parlato nell'altra puntata che è incredibile a 95 100 all'ora beh questa 509 fai 70 75 raggiunge gli 80 quindi nei trasferimenti oggi anche se vuoi partecipare a qualche raduno limita sicuramente un po' l'utilizzo si riesce a viaggiare a velocità di crociera per lungo tempo si si ha un motore affidabile motore nuovo completamente rifatto ecco pezzi di ricambio non mi dicono che non ci sono particolari problemi per questo automobili quello che non si trova si rifà quello che non si trova si rifà facilmente si rifà con la collaborazione di vari specialisti i tornitori e quant'altro insomma abbiamo bisogno anche di un team di specialisti che ne sono rimasti pochissimi per questo per questi pezzi di ricambio che non si trovano vogliamo dire che però ci sono forse automobili più complicate da restaurare parlo della meccanica adesso rispetto all'elato degli anni 20 e 30 perché sono automobili semplici come struttura come struttura sono sì infatti non è cosa avete trovato come maggiore difficoltà in questo restauro eccezionale da una vettura trovata in campagna praticamente e all'esemplare splendido che avete portato qua ma guardi i pistoni sono stati per esempio cambiati e sono stati rifatti proprio di sana pianta da un'industria da una piccola fabbrica del nord sono stati fusi proprio per questa macchina qui e quindi è stato difficile trovare queste queste persone che fanno queste cose quindi ma anche gli stessi bulloni delle ruote che mancavano li ha fatti un tornitore ecco qui nei dintorni di Roma c'è un tornitore che ha fatto tutti quei bulloni in ottone un grande specialista e non è non è facile trovarlo Sandro allora anche a Roma c'è qualcuno che si occupa di autodepoca perché sembra che sia tutto al nord no è vero come diceva prima lui che purtroppo questi specialisti stanno diminuendo sempre di più perché sono tutte persone anziane che messieranti che stanno avanti con gli anni avere la fortuna invece lui di conoscerne ancora qualcuno che ti dà una mano nel restauro è importante però ci abbiamo anche noi qui nel centro Italia ci sono insomma ancora personaggi che ti possono aiutare ma c'è un certo ricambio oppure una volta che questo ha avuto i 100 anni infatti il punto interrogativo non avremo più nessuno in grado di mettere mani sullo fiato quello che dico che magari ecco tanti giovani che non trovano lavoro potrebbe veramente mettersi dedicarsi dedicarsi a seguire questi personaggi che hanno esperienza e quindi entrare in questo mondo che secondo me c'è molto lavoro perché poi ecco ci sono degli oggetti che non si trovano tocca rifarli quindi capire vedere come si fa come si realizza ecco un bullone della ruota è importante qual è stata la cosa più complessa da trovare in un restauro che hai affrontato la cosa che ti ha fatto veramente impazzire ah io la cosa che mi ha fatto impazzire che ancora mi è rimasto un po' di impazzire è l'arricchitore di benzina del 521 altra Fiat altra Fiat bellissima insomma degli anni 30 che ho trovato tutto piano piano ho trovato tutto ma sono circa tre anni che cerco di comporre il mosaico e manca manca questo arricchitore che era quello quando tu siccome la benzina era caduta e quindi dovevi pompare la benzina finchè arrivava al carburatore poi una volta partita se la tirava dentro da sola il problema è che questo arricchitore che ho trovato non è proprio del 521 è un arricchitore ma un pomello solo il 521 ne aveva due di pomelli non credevo che avresti parlato in trasmissione di quello del 521 perché veramente è una vettura dove ci vorrebbe veramente un po' di pudore perché io so il prezzo a cui tu l'hai acquistata qualche anno fa ed è una vergogna per l'umanità veramente devo dire chi nasce fortunato cioè un prezzo un prezzo in senso basso basso incredibile ma è fortunato eravamo tutti in garage quando l'ho pagato eravamo molto bassi no no è una cosa incredibile perché dobbiamo dire adesso che il mondo delle auto diciamo anteguerra prima della seconda guerra mondiale sono automobili che hanno sicuramente ci sono degli esemplari che hanno prezzi importantissimi valutazioni importanti però non sono così quotate come lo sono ad esempio altre generazioni di automobili negli anni 50 e 60 questo forse perché hanno anche una difficoltà oggettiva di utilizzo sono difficili da utilizzare perché hanno dei limiti oggettivi e un po' forse perché il mercato le sottovaluta quindi si fanno degli affari adesso non ti chiedo quanto vale questa 509 perché ci avete fatto un lavoro di testato straordinario e poi si tratta di una serie particolarmente limitata però ci sono delle 509 in giro a prezzi di una media vettura oggi nuova quindi non stiamo parlando di prezzi incredibili rispetto all'importanza della vettura come vai secondo voi sono un po' sottovalutate queste vetture degli anni 30 io penso che diciamo sono sottovalutate perché perché sono state diciamo acquistate più valore ecco queste macchie degli anni 60 perché sono molto più guidate guardando questa spesa SL che ci ha portato Giuliano è una vettura sicuramente che fa innamorare la maggior parte degli appassionati comunque lega la passione a qualche cosa che ha anche vissuto quindi io per esempio che cerco quella Buick del 48 è perché da ragazzino mio padre in America l'ho visto su quella macchina allora le macchine invece degli anni precedenti insomma hanno un sapore un po' di memoria magari collezionista puro eccetera ma l'appassionato e se più vado avanti e più scopro che ce ne stanno tantissimi anche tra i giovani legano questa passione a qualche cosa a qualche reminiscenza a qualcosa che hanno vissuto o magari la mia appia seconda serie sono ricordi che ti e allora tutte le auto che voi avete hanno in qualche modo la domanda che faccio a tutti quanti rappresentano qualcosa un ricordo che voi avete o qualcuno l'avete comprata proprio perché vi siete innamorati a prescindere dalla memoria nel mio caso c'è sempre il legame con qualche cosa che riguarda il mio vissuto poi chiaramente capita la macchina di cui ti innamori Sandro del 521 non può avere memoria Sandro si innamora di tutte le automobili tu sei un caso a parte tu ti innamori io 521 il Barilla perché mio padre con il Barilla ci lavorava in Campania e col 521 faceva l'autista uno di un paese vicino di Terbo hai cercato il legame addirittura della storia del padre sì infatti mio padre mi parlava di questo 521 quando poi ho saputo che c'era questa macchina che c'era la possibilità di acquistarla mi sono messo alla caccia e poi l'ho trovata e poi con il fucile perché il prezzo che l'hai pagata no non c'è bisogno lui guarda te l'ho detto non c'è le antenne lui all'improvviso si lancia e ha sentito che là dietro Giuliano le SL adesso poi dobbiamo purtroppo chiudere per dare la linea alla pubblicità ma torneremo ovviamente nella seconda parte della puntata a parlare nello specifico anche di questa straordinaria 190 SL tu che legame hai con questo SL legame emotivo cioè l'hai comprata l'hai cercata perché rappresenta qualcosa nella tua storia sì diciamo che comunque è un ricordo che porta avanti mio padre anche lì c'è il padre allora anni 60 quindi lui magari era piccolino e ricordava e ti ha raccontato insomma ed ha sempre maggiorenne però comunque raccontava di questa vettura che pochissimi esemplari in Italia perché tanti andavano esportati in America era un'auto ricircolavano pochissimi in quegli anni in Italia era un'auto da cinema insomma sì sì e quindi l'abbiamo trovata l'abbiamo comprata ma questa l'hai restaurata tu ed era già così questa è veramente in uno stato di conservazione eccezionale beh Giuliano ti fa la manutenzione perché è lavoro suo perché è lavoro mio certo e lui bene allora dobbiamo lasciare per un attimo le nostre splendide vetture qui all'All Cars naturalmente dopo una breve per fortuna interruzione pubblicitaria torniamo in studio qui a Classic Garage parleremo ancora della Fiat 509 parleremo ancora di Bentley e parleremo di questa straordinaria Mercedes 190 SL del 1961 a tra poco a tra poco a tra poco a tra poco Grazie a tutti.